Le prove sono andate... come sono andate le prove, fammi pensare. Allora, le prove sono state particolari perché in realtà lo spettacolo originale con l'Alcantero era la presentazione di due spettacoli, la figlia di Gairo e la moglie del procuratore. Intanto è stato interessante perché secondo me siamo cresciuti come, tra virgolette, attori, anche se non siamo attori. Ah, le prove sono sempre fantastiche. E secondo me quest'anno è stato più facile forse interagire con i miei compagni forse perché iniziamo a conoscerci effettivamente. Riusciamo a ottenere qualcosa di buono solo quando riusciamo a capire veramente il testo. Le prove sono andate bene. Per me è stato un po' diverso rispetto a un attore normale perché facendo la parte del coro c'è anche tutta una parte di prova musicale su pezzi scritti da una delle nostre attrici. Quindi molto particolari, senza parole, molto difficili. Molto bene. Eh raga, non mi viene la fantasia. Le prove sono andate molto bene. Molto bene.